Contro l'ultimo pilastro, uno mi spinge fuori. Mentre esco giro sull'aria. Ok, esco. Non devo. E poi esco. Ma attacco. Attacco. Viene in suoi mani. Prego! Quello che avviene in questo refratico è che blocca la terra. Io sono schiebrato e devo uscire. E lui, per la sua difesa, fa altrettanto. Segno. Lui è fermo. Io sono fermo. Non c'è niente da sfruttare. Perciò nel mio primo attacco devo rimanere questo movimento su. E io l'ho di sentire. Ok? Se lo lascio di fermo, esco ma non lo vedrete. Non va bene se non è. Forza. Ad entrare, perché anche porta il peso sul suo fianco sinistro, mi trovo il peso da questa parte. Ok? Allora, da questa posizione, esco all'esterno tra le posci. Ok? Allora, sono entrato troppo dentro le posci. Ho chiuso il peso dietro. Sistemo prima a destra per non cadere. Perché se lo piatto qua, rischio di cadere. Perciò esco di più a destra. Sistemo sinistro per non cadere. Prego! 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 Prego!